Bene, buonasera a tutti, benvenuti in questa bellissima piazza di Castellalfero per questo concerto della nostra banda, la banda musicale comunale di Portacomaro d'Asti a favore dell'AISM, l'Associazione Italiana Sclerosi Multipla. È un gran piacere per la nostra banda aver stretto questa amicizia con l'AISM e poter collaborare con loro per questo concerto benefico a favore delle tante attività che questa società svolge a favore dei suoi associati. Durante questa serata non ci saranno solo momenti di musica, ma ci saranno anche interventi formativi e alcune letture per spiegare come la sclerosi multipla colpisce il sistema nervoso centrale causando gravi danni e l'AISM di Asti si occupa di alleviare in parte le difficoltà che incontrano le persone colpite fornendo servizi per migliorare la qualità della vita e per fare tutto questo ha bisogno di eventi come questo di questa sera per raccogliere fondi da destinare allo svolgimento di tali attività. Ringraziamo l'amministrazione comunale per l'ospitalità su questa piazza e è la prima volta che la nostra banda si esibisce su questa piazza anche se diciamo che da Portacomaro a Castellalfiero c'è un tiro di schioppo oppure c'è sempre una prima volta e speriamo che sia l'inizio di una lunga serie. Prima di iniziare la serata vorrei chiamare qui vicino a me il sindaco di Castellalfiero il signor Angelo Marengo che voleva rivolgere un saluto a tutti quanti voi eccolo qui accogliamolo con un bel applauso grazie ringrazio la banda di Portacomaro che sono i nostri cugini dall'altra parte della vallata quindi mi fa piacere anche per questo motivo. Io volevo fare però un complimento, un augurio all'Aesma perché il volontariato è sempre non quello importante di per sé ma è il volontariato di oggi in particolare. Poi farlo per una casa così credo che sia doppiamente se non dieci volte più importante. Quindi la serata è buona come clima quindi invito tutti noi castellalfieresi insomma quelli presenti che arriveranno a fare proprio il dovere stasera per aiutare la causa come detto prima è fondamentale e importante. Grazie ancora e buon concerto. Grazie al sindaco. E allora prima di iniziare ascolteremo la lettura di un brano riguardante appunto la sclerosi multipla che ci viene letto dalla signora Fernanda. Eccola qua. Vogliamo la con un bel applauso. Grazie. E ascoltiamo con attenzione quello che la signora Fernanda ci andrà a leggere. Grazie.